Non appena questo perverrà la giornata di oggi, naturalmente speriamo di sì, riprenderò la mia agenda quotidiana, oggi ancora stanno in capo il vice sindaco e poi naturalmente faremo il percorso politico che già ieri ho delineato per vedere quali sono le decisioni più utili da assumere nell'interesse della città di Terni. Questo percorso politico da dove parte? Parte naturalmente da valutazioni che faremo insieme iniziando dalla Giunta e poi allargando ai consiglieri comunali di maggioranza che hanno avuto un comportamento altamente responsabile, quindi credo adempiendo in pieno alla fiducia che gli hanno riservato gli elettori e poi naturalmente alle forze politiche e poi prima naturalmente di chiuderlo mi permetterò anche di incontrare le rappresentazioni associative della città, in modo anche da avere con loro un confronto sui temi e quindi anche su quello che è stato l'avventamento che emerge già. Quindi una sorta di consultazione? Beh, diciamo sì, è un confronto aperto che naturalmente coglie le criticità che già conosciamo a partire dal piano di riequilibrio che insomma è in fase di avanzata valutazione da parte del Ministero, quindi noi stiamo continuando come amministrazione nel percorso che avevamo delineato, nelle tappe che ci avevamo proposti e poi naturalmente tutte quante le cose che riguardano la città, dal progetto per il palazzetto dello sport alla sistemazione della fontana di Piazza Tacito, agli eventi che abbiamo avuto e che avremo ulteriormente, insomma alcuni mi hanno detto hanno anche avuto un riscontro estremamente positivo, quelli di Special Olympics, adesso abbiamo la festa del pane e quindi insomma continuiamo fino a una decisione definitiva nella, in quella che è la nostra programmazione. Dal punto di vista amministrativo, Sindaco, la partita più grande possiamo dire a quella del previsto del piano di riequilibrio adesso? Beh, certo insomma, perché sapete tutti che l'approvazione di quel piano è elemento decisivo per la prosecuzione della legislatura, quindi dal punto di vista amministrativo il nodo maggiore è quello dicevo noi abbiamo fatto gli atti in questo periodo che il Ministero ci aveva sollecitato in modo da rendere credibile il piano che abbiamo presentato, l'ultimo è stato appunto il consultivo del 2016 e quindi ecco adesso insomma andremo a dominare il nuovo amministratore unico di farmacie Terni che è un ulteriore passaggio per poi preparare gli atti per la gara di allenazione, intanto proseguiamo anche negli altri settori che avevamo investito per recuperare la finanza necessaria per pareggiare diciamo così i conti debitori che abbiamo. Da come parla non sembra aver compiuto almeno nella sua testa passi indietro, è così? Dicevo una valutazione che faremo insieme naturalmente in questo momento l'idea è quella di andare avanti ma poi sarà una decisione che prenderemo non solo ma ecco con la maggioranza che mi ha lealmente in maniera diciamo compatta sostenuto quindi questo credo sia un riconoscimento anche verso il ruolo così rilevante che loro hanno avuto.